è il del ring ma non posso toccare l'erba prendi guerriero nomade il mio obiettivo è uccidere un boss se muoio anche per altri motivi che non è toccare l'erba la challenge è persa ok per fortuna c'è una stradina qua non posso uccidere perché magari mi scaraventa nell'erba mi ammazza mi ammazza mi ammazza mi ti prego questa non conta come una morte perché non è arrivato you died quindi siamo a posto dai che me la sento buona me la sento buona non me la sento più così buona vediamo dove si porta la strada seguiremo il vento andiamo di qua ok bene qua se non sbaglio dovrebbe esserci una spiaggia con una caverna la spiaggia non è erba da quel che mi ricordo quindi potremmo andarci vabbè però non devo morire ok no no ok c'è la caverna ok questa qui è erba non posso andarci quindi devo fare attenzione anche mentre combatto ok no sto per prendere l'erba no no mi sono scollegato il controller no l'erba si lasciate like e iscrivetevi se piace tutta la challenge